Ben trovati al nostro spazio dedicato all'economia in Italia e stiamo appunto alle conseguenze economiche. I prezzi continuano a salire a febbraio il 4% in più per il cosiddetto carrello della spesa e quanto comunica l'Istat tra i motivi dell'inflazione il rincaro dell'energia. I prezzi di gas e petrolio restano entrambi sopra i 100 dollari. In quest'ora la Commissione europea sta definendo le banche russe da escludere dal sistema SWIFT. Sapete che si tratta di una delle sanzioni che sono state predisposte. Intanto il ministro delle finanze tedesco dopo il G7 con i suoi omologhi ha detto che le sanzioni hanno già avuto un impatto. Fabio Fortuna rettore di Unicusano ed economista. Grazie. Allora professor Fortuna partiamo proprio dall'aumento dei prezzi da questa inflazione che viene certificata dall'Istat 5,7% sull'anno scorso. Confcommercio dice che è un fenomeno duraturo. È così? Più 0,9 rispetto al mese precedente, un'inflazione acquisita del 4,3 nel 2022 e quindi la temporaneità dell'inflazione è già disattesa rispetto alle dichiarazioni dei due governatori di VC e Fed si è ulteriormente allungata. Ora dire che sarà duratura è un po' presto, bisognerà vedere l'evoluzione del conflitto e tutte le altre variabili. Certamente non è temporanea, certamente è destinata ancora a durare nel tempo e è partita dalle risorse energetiche che costituiscono ancora la componente di maggior spicco, ma poi si è estesa in modo generalizzato a livello dei prezzi di tanti altri beni e servizi, primi tra tutti ad esempio nel campo alimentare i cereali per una sorta di dipendenza dai mercati internazionali, minore rispetto al caso delle risorse energetiche perché siamo anche produttori e quindi abbiamo necessità minori. Insomma cosa si può fare concretamente per ridurre il peso dell'inflazione? Ma in questa fase direi che già prima dello scoppio della guerra era un discorso difficile da affrontare, i vari interventi che ci sono stati si erano già mostrati insufficienti nel momento in cui nascevano e quindi io spesso avevo già impaventato il timore dello scostamento di bilancio, a questo punto credo che le scelte dovranno orientarsi, è vero, crederemo altro debito, ma d'altronde famiglie e imprese le prime devono avere la possibilità di sopravvivere vedendo perdere il potere d'acquisto in modo impressionante, le imprese anche devono avere la possibilità di andare avanti e quindi il governo dovrà intervenire perché soluzioni nel brevissimo termine, soprattutto in campo energetico, non si intravedono come elementi e fattori vincenti. Intanto a Mosca in tutto questo la borsa è chiusa per il secondo giorno di seguito, allora volevo chiederle perché e se è anche questo un segno che le sanzioni stanno funzionando? Ma è evidente che le sanzioni già cominciano a funzionare anche se gli effetti veri li vedremo tra un po' di tempo. La borsa di Mosca per due giorni consecutivi è rimasta chiusa per evitare crolli nelle quotazioni nazionali, ricordiamo che è rimasta chiusa per quanto riguarda il settore azionario e quello dei derivati, per evitare speculazioni, ribassi eccessivi, anche perché il rublo è caduto più del 30% e le riserve di cui la Russia dispone sono utilizzabili soltanto in parte per fronteggiare la situazione perché circa la metà è all'estero e al momento non può essere utilizzata. Quindi è una situazione difficile in cui si è deciso di tenerla chiusa, domani alle 6 del mattino avremo notizie sull'eventuale riapertura ma rimane tutto appeso perché la situazione anche bellica sta peggiorando e quindi questo accentua le difficoltà del mercato azionario, del mercato dei derivati. Allora l'abbiamo sentito, i mercati più o meno tengono però i prezzi dell'energia continuano a salire. Allora, Professor Fortuna vorrei sentire anche lei cosa pensa di questo punto. Credo che lo abbiamo sentito negli ultimi tempi molto spesso. Secondo me è necessaria la diversificazione delle fonti energetiche puntando alla transizione ecologica che però come tempi di realizzazione è molto più lunga delle necessità del momento. Quindi cercare di utilizzare, come ha detto anche Draghi questa mattina nel suo discorso, cercare di far affrontare le difficoltà del momento, simpaticamente ha anche detto che dovremmo andare verso una stagione migliore, il fabbisogno dovrebbe diminuire, diminuire l'esposizione nei confronti della Russia. Ovviamente a questo punto è un discorso abbastanza assodato e sfruttare magari l'Argeria come si sta facendo e soprattutto l'Azerbaijan con cui già abbiamo un rapporto, potenziare il gasdotto con l'Azerbaijan e andare avanti in questo modo. E allora, Professor Fortuna, invece qualcuno ha già ribattezzato questa proposta che tra l'altro è una proposta della Grecia, un recovery fund dell'energia, quindi prendere soldi in prestito a tassi particolarmente favorevoli per usarli appunto contro il caro bollette, è fattibile? Ma io credo di sì, l'idea di un fondo comune è sicuramente positiva, però bisogna vedere le modalità di realizzazione, quelle che il collega ha chiamato appunto dettagli, perché se non li vediamo non siamo in grado di giudicare. Del resto l'Europa deve affrontare nel suo insieme tutte le problematiche che la riguardano e soprattutto i paesi più deboli nell'ambito del concetto di coesione e solidarietà devono essere aiutati anche dagli altri, soprattutto quelli più dipendenti a livello energetico e noi purtroppo per quanto riguarda il gas attualmente produciamo un po' più del 3%, il raddoppio si potrebbe avere in 24 mesi, ma sarebbe sempre una percentuale molto limitata.